Torna dal 6 al 9 luglio per la sua trentesima edizione, Monteriggioni di Torri si corona, una delle più importanti e longeve feste medievali italiane che proporrà spettacoli di piazza e di strada sfilati in abito storico, banchetti, musica e rievocazioni di antichi mestieri, tutto nella splendida cornice del borgo senese. La rievocazione storica di Monteriggioni che ci riporta con i costumi al 1214, un'epoca in cui Monteriggioni aveva un ruolo fondamentale in Toscana, sta a mostrare quello che abbiamo cercato di valorizzare come regione, ovvero le manifestazioni, le rievocazioni storiche, questa è di particolare qualità, che consentono di animare i nostri borghi non solo per i loro quadri e conseguentemente i loro musei, le loro biblioteche, le loro architetture, ma rendendoli vivi. Tra le novità di quest'anno, il premio La Quindicesima Torre per la migliore taverna medievale e il manifesto della festa per la prima volta disegnato da un grande autore, Milo Manara. La festa celebra il profondo legame tra il Medioevo e Monteriggioni, ma racconta anche molto della storia della nostra comunità passata, ma anche presente in considerazione del fatto che i protagonisti della festa sono le associazioni del territorio che lavorano tutto l'anno per organizzarla e quindi i cittadini di Monteriggioni. Per la prima volta abbiamo deciso di affidare la realizzazione del manifesto a un grande maestro, Milo Manara, e lo ha fatto in maniera veramente con un risultato eccellente.